Sì, buonasera a tutti. Abbiamo letto, saputo, che dal lunedì al 18 maggio, quando praticamente tutta Italia, quasi tutto il mondo, inizierà le riaperture, dove torneremo a vivere, le imprese torneranno a cercare di fare attività, riprodurre economia, inizieremo le chiusure, perché il sindaco e la non-amministrazione di Formia hanno pensato bene di aspettare proprio il momento della riapertura per chiudere il ponte Tallini a Formia. Ponte che necessita di rilievi, interventi importanti per una serie di problematiche e che in questi due mesi di chiusura a livello nazionale, senza traffico veicolare, con nessun rischio per le persone, sarebbe stato chiaramente l'ottimo poter analizzare, sistemare, riparare, tamponare, tutto ciò che era necessario e che sarà necessario fare adesso. Del resto a Roma, a Milano, i sindaci, così come degli altri comuni dotati di un'amministrazione comunale degna di questo nome, sono stati fatti lavori, perché mai sono stati sospesi lavori e cantieri di pubblica utilità all'interno dei vari comuni e di tutto il paese Italia. In provincia abbiamo rifatto tantissimi interventi di manutenzione stradale. Oggi invece abbiamo appreso dal sindaco di Formia che inizieranno lunedì 18 con una motivazione surreale che ci auguriamo sia una bugia volutamente detta ai cittadini per trarre in inganno e cioè che prima non era possibile farlo. Sindaco, non è così, mi auguro che lei lo stia dicendo sapendo di mentire, perché se viceversa lei non fosse neanche informata sulla vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e su cosa era consentito o non consentito fare a livello di pubblica amministrazione e di lavoro di pubblica utilità, continuerà a confermare ancora una volta l'ennesima, un'approssimazione, un qualcosa di veramente indescrivibile. Questa è una città che sta morendo per colpa di questa amministrazione. Sta morendo. Non è con le bugie e con le false affermazioni che si può andare avanti. Questi lavori potevano essere fatti due mesi fa, quando li facevano in tutti i comuni, capisce, come lo si faceva in tutta la provincia. Ora, quando tutto riapre, quando le imprese dopo mesi e mesi di sofferenza potranno tornare finalmente a cercare di fare attività, noi a Formia chiudiamo i punti e iniziamo i lavori. Una follia, una follia, una continua follia che si vive in questa città da due anni. Mi auguro che ci sia qualcuno che si renda conto di dove stiamo andando, del baratro in cui stiamo finendo. Abbiamo la possibilità, con le sospensioni Covid e con i rinvii dei termini, di poter portare questa città di nuovo a votare entro ottobre. Allora che qualcuno di buon senso si renda conto che questa amministrazione sta uccidendo imprese, attività commerciali, occupazione, benessere, turismo. Tutto in questa città sta morendo tutto per un'approssimazione e un'incompetenza amministrativa senza i quali. Mi auguro che qualcuno possa rendersene conto e con un modo d'orgoglio dire, vabbè, ci abbiamo provato, ora torniamo a fare politica, torniamo a fare attività di governo serio.